Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! La settimana scorsa abbiamo visto il sogno di Dio sulla nostra vita, che portiamo frutto, da qui l'importanza di vivere uniti a Gesù e del lasciarci potare. Oggi capiamo meglio cosa significhi portare frutto, in una parola amare. E' dunque un'occasione bellissima per riscoprire l'ABC dell'amore, che è dono da accogliere e scelta da vivere, soffermandoci in particolare su due punti. L'amore ha una fonte e una verità. Vediamo un po'. Primo punto, la fonte dell'amore. Quando noi parliamo di amore dobbiamo anzitutto capire di cosa stiamo parlando. Vi è infatti chi riduce l'amore a mero sentimento, a una sorta di sfarfallio interiore o di prurito emotivo, a qualcosa di molto estemporaneo, che se sento vuol dire che c'è, se non sento vuol dire che non c'è. Gesù invece spiega che nessuno ha un amore più grande di colui che dona la propria vita per gli amici. Cioè Gesù ci parla dell'amore come un donarsi, un voler bene e voler il vero bene in ogni scelta, per ogni persona. Tenete conto che Gesù ha chiamato amico anche Giuda che lo stava tradendo. Dunque un donarsi per tutti, guardando a tutti come amici, non avendo nemici, avendo un cuore libero. Se l'amore, miei cari, è questo donarsi sempre e comunque, gratuitamente, fino in fondo, capiamo bene che stiamo parlando di qualcosa di altissimo, che supera le nostre semplici forze. Infatti, un altro fraintendimento dell'amore è pensare che sia soltanto sforzo, atto della propria volontà. Per amare basterebbe impegnarsi, ma se guardiamo alla nostra esperienza ci rendiamo conto che non basta. Il nostro amore, spesso egoistico, è a tempo, a condizione, riusciamo ad amare fino a un certo punto. Ma quando l'altro non corrisponde, ci ferisce, ci tradisce, quando l'altro non è all'altezza delle nostre aspettative, beh, facciamo tanta fatica, anzi, diciamocelo chiaramente, non riusciamo ad amare. Ecco allora il primo annuncio del Vangelo. Ecco allora le parole bellissime di Gesù. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Queste parole ci ricordano che l'amore ha una fonte e quella fonte non sono io, ma è Dio. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Tutto l'amore di Dio, l'amore potente, gratuito, liberante di Dio, viene riversato nei nostri cuori, per mezzo dello Spirito Santo. A noi sembra una cosa da poco, miei cari, in realtà è decisiva. Buona parte dei nostri problemi si risolve proprio qui. Noi tutti cerchiamo l'amore e passiamo la nostra vita talvolta elemosinandolo e facciamo un'esperienza che anche l'amore umano più bello, più limpido, non può colmare fino in fondo il nostro cuore, che è affamato d'infinito. Quante volte carichiamo di pretese perfezionistiche gli altri, che sia il coniuge o che sia noi confratelli o nella comunità religiosa, come se fossero gli altri a dover colmare i nostri vuoti. Ma non è così, miei cari. La fonte dell'amore non sono io e non è la persona che ho accanto, la fonte dell'amore è Dio. Al contempo però noi abbiamo nel cuore tante resistenze all'amore. Credere che Dio ci ami in generale può essere facile. Credere che Dio mi ami profondamente, interiorizzare il suo amore per me è un cammino che trova tanti ostacoli. Credere che Lui mi ama come sono, che mi ama anche quando non sono all'altezza, anche quando fallisco. Credere che mi perdona sempre e comunque, che mi guarda con misericordia, che è sempre pronto a ridarmi una nuova possibilità. Questo è difficile. Parte come un sabotatore interiore che ci dice che non siamo amabili, che Dio non può amare uno come me. Ecco, abbiamo bisogno di disobbedire a questa voce e accogliere le parole di Cristo. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Ecco, aprirci a quest'amore, accoglierlo, rimanerci dentro come un pesciolino nell'acqua, come un bimbo nel grembo della madre e ci rimaniamo dentro pregando, meditando sulle sue parole, attingendo i sacramenti e se ci decidiamo a vivere i suoi comandamenti, cioè ad amare a nostra volta. Allora, miei cari, sapere che l'amore ha una fonte è un annuncio liberante. Posso amare perché sono amato. Posso chiedere al Signore la grazia che riaccenda il mio cuore e posso essere reso capace di amare, sempre, comunque, nella gioia e nel dolore, fino in fondo, anche quando l'altro non è all'altezza, anche se l'altro mi ferisce, anche se l'altro non corrisponde. Perché? Perché il mio cuore attinge alla fonte e questa fonte è Dio. Allora è da Lui che dobbiamo ripartire, pregare per le persone che abbiamo accanto, per il marito, per la moglie, magari in questo momento difficile nella vita di coppia, per i confratelli, per le consorelle, per quelle persone con cui abbiamo più difficoltà, metterci in povertà davanti a Dio e dirgli, Signore, io non ce la faccio, io faccio fatica ad amarli, ma tu li stai amando, tu lo stai amando, infondi in me il tuo amore, aiutami ad amare come tu ami me. Ed eccoci al secondo punto, miei cari, la verità dell'amore. Gesù ci ha detto, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Attenti, questo come è importante. Partiamo anche qui dall'esperienza. Noi spesso chiamiamo amore ciò che amore non è. Nel linguaggio quotidiano possiamo chiamare amore la gelosia possessiva, un attaccamento egoistico. Possiamo chiamare amore un rapporto disordinato o addirittura una relazione tossica. Questo come io ho amato voi ci rivela una cosa importante, che l'amore ha una verità. Se vogliamo veramente imparare ad amare, dobbiamo guardare a come Gesù ha amato noi. Ecco allora l'importanza di frequentare le pagine del Vangelo per scoprire i gesti, le parole, i sentimenti di Gesù. E soprattutto guardare alla sua passione, alla sua croce, quell'amore infinito, gratuito con cui ci ha amati. Guardare a quel perdono che ha dato e gridato fino all'ultimo respiro, a quella misericordia ostinata capace di ridare vita alla nostra povera vita. Se voglio veramente imparare ad amare, ho bisogno di guardare a come Cristo mi ha amato. E se desidero davvero amare chi ho accanto, è Cristo che devo imitare. Amatevi come io ho amato voi. Questo come, miei cari, è altresì importante, perché alza il livello del nostro rapporto con gli altri. Verete, Gesù non dice amatevi come volete, o ama l'altro come si merita, o fai all'altro ciò che l'altro fa a te. No, amalo come io amo te. È in fondo la domanda seria che dovremmo porci, ma Gesù al mio posto cosa farebbe? Questa cosa che vorrei dire o vorrei fare, profuma di amore vero o è una contraffazione dell'amore? Ecco allora, miei cari, che l'amore non si configura solo come dono da accogliere, ma anche come scelta da vivere. Ed ecco che allora l'amore è fatto di parole, di gesti concreti, di gesti d'affetto, di servizio, di premura. Un amore che si comunica e si modella sull'amore di Cristo. Questo è molto importante. Pensate a quante coppie vivono momenti di crisi, pensando che l'amore sia finito, perché non sentono più l'amore, ma l'amore si comunica ed è proprio nel comunicare amore che l'altro si percepisce amato. E così il cuore si accende, così il cuore arde. Tante volte non è che l'amore è finito, semplicemente non ci si sta più comunicando amore nel modo giusto. Allora abbiamo bisogno di ripartire da Cristo, di accogliere il suo amore e imparare ad amare, ascoltarci, venirci incontro, donarci concretamente, voler bene e voler il bene dell'altro, facendo passare questo bene, ripeto, attraverso le nostre parole e i nostri gesti. Cari fratelli e sorelle, che questa domenica possa aiutarci a riscoprire la nostra chiamata ad amare, a dare la vita per gli altri, a essere dono, regalo, a consegnarci, a lasciare tratti indelebili di bellezza nei cuori delle persone che incontriamo. Dare la vita è la maniera di amare che tutti dobbiamo imparare, ma ciò sarà possibile solo se ci lasciamo amare così da Gesù e nella misura in cui lo faremo potremo scoprire e sentire quanto sono vere le parole di Gesù. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Aprire il cuore al suo amore, scoprirci amati e amare, pregare e amare, direbbe il santo curato d'Ars. Ecco la gioia dell'uomo sulla terra. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.